Buonasera da Mario Macantelli, affronto oggi un tema delicato, quello del conflitto di interessi, lo faccio a seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato, la 7628 2021, concernente un caso particolare che vale la pena di vedere. Ho scelto un titolo curioso, conflitto di interessi, quando la moglie del direttore non è come la moglie di Cesare. E vediamo tra un po' il perché di questo titolo, qualcuno avrà già compreso dove voglia andare a parare. Veniamo alla vicenda giurisprudenziale. La direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di una città italiana nomina il suo ex marito come vice direttore. Questa nomina risulta poi determinante al fine dell'ottenimento di un requisito di esperienza che poi sarà valutabile nella successiva procedura per diventare a sua volta direttore della stessa accademia. Un controinteressato impugna i provvedimenti di nomina. La direttrice e il vice, che poi è diventato a sua volta direttore, sono separati da 14 anni, quindi sono marito e moglie ma separati. Tuttavia, secondo quanto rappresentato dal ricorrente e non contestato dalle parti, non è sopravvenuto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, inoltre sono nati dei figli e alla fine si dimostra come permangano sicuramente degli interessi comuni in capo ai due soggetti, quantomeno dal punto di vista economico e affettivo relativamente ai figli. La vicenda processuale si conclude con il giudice di primo grado che accoglie il ricorso e con il Consiglio di Stato che conferma la sentenza di primo grado anche nel giudizio di secondo grado. Vediamo alcuni passaggi della sentenza. Vedete, un motivo di ricorso concerne proprio il fatto che i due direttori si sono avvicendati, marito e moglie, fossero separati da 14 anni e che l'incarico fosse a titolo gratuito. Il Consiglio di Stato non rileva la fondatezza di questo motivo. Cita la normativa più pertinente in materia, quindi articolo 6 bis della legge 241 del 90, il DPR 62 del 2013, cioè il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'articolo 97 della Costituzione, quindi riferimento a imparzialità e buon andamento, però il Consiglio di Stato va ancora più nel dettaglio. Vedete quest'altro passaggio. La razza che sottende la normativa sul conflitto di interessi dal lato dei cittadini è sostanziale, perché garantisce la giustizia attraverso l'uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, eccetera. Dal lato della pubblica amministrazione è un interesse immateriale, perché tutela anche l'immagine imparziale del potere pubblico. Alla fine che cosa afferma il Consiglio di Stato? Nella fattispecie in esame la sussistenza dello status di coniugi separati determina sulla base di massime di esperienza l'insorgenza di un rapporto di frequentazione e collaborazione che impone l'obbligo di astensione che nella fattispecie non è stato osservato. Quindi la direttrice dell'istituto doveva astenersi dal nominare il suo ex come vice direttore. Veniamo alla moglie di Cesare, perché l'ho citata. Il riferimento è al parere del Consiglio di Stato numero 667 2019, reso ad ANAC proprio in materia di conflitto di interesse sugli appalti pubblici. Anche in questo caso si punta l'attenzione sulla tutela dell'immagine della PA. Vedete questo passaggio. Il Consiglio di Stato afferma che è perseguito dalla materia del conflitto di interessi un ulteriore obiettivo diverso, ma complementare, vale a dire, la cura di un interesse immateriale della PA. Tra gli interessi pubblici la cui cura è affidata al soggetto, infatti emerge altresì quello del rispetto del principio di imparzialità, anche subspecie del principio della moglie di Cesare, che deve non solo essere onesta, ma anche apparire tale. Il principio della moglie di Cesare, citato dal Consiglio di Stato, afferisce ad un episodio storico dove Cesare, appunto, nella vicenda del divorzio dalla moglie, volle che la stessa nemmeno potesse essere toccata dal sospetto di una condotta disdicevole. Quindi, non solo di onestà accertata, ma neanche capace di dare adito a dubbi su moralità e onestà. Da qua il collegamento con la tutela dell'immagine della PA, intesa come doverosa mancanza assoluta anche del solo sospetto. Vi saluto, ci vediamo in un'altra occasione.